E' convocato per oggi pomeriggio alle 18 il Consiglio Comunale che deciderà il destino dell'amministrazione di Corato. In discussione c'è la mozione di sfiducia al sindaco firmata da 11 esponenti delle opposizioni. A tenere banco in queste ore è la decisione del consigliere Fabrizio Ventura di ritirare l'appoggio alla mozione di sfiducia dopo averla sottoscritta insieme ad altri 10 colleghi. Il movimento Cantiere in Comune, a cui Ventura faceva riferimento sino a ieri prima che ne prendesse le distanze dichiarandosi indipendente, teme che dietro a questa improvvisa decisione si nascondano la volontà di conseguire vantaggi meramente personali o peggio ancora, come ventilato in alcune occasioni dallo stesso Ventura, la paura di subire ritorsioni in ambito lavorativo. I consiglieri a favore della mozione diventano quindi 10, mentre per la decadenza del sindaco servirebbero almeno 13 voti favorevoli. Difficile a questo punto che i consiglieri Caputo, Rosselli e Di Tria, pur non essendo organici alla maggioranza, votino tutti e tre favorevolmente una mozione di sfiducia che hanno rifiutato di sottoscrivere in partenza. Il sindaco Mazzilli, che la scorsa settimana ha rassegnato le dimissioni ma ha ancora più di 10 giorni per poterle ritirare, ricorda il grave danno che la città subirebbe con l'arrivo di un commissario prefettizio. Io una cosa ho capito comunque che la gente non l'ha concepita questa situazione e quindi vorrebbe che l'amministrazione arrivi sino alla fine. Abbiamo fatto tante opere, io dico solo, non c'era il distaccamento dei Vigili del Fuoco, non c'era il giudice di pace, non c'era un asilo nido. Abbiamo completamente attrezzato una zona industriale, 70 mila metri quadri di asfalto, luci e condotture. Stiamo asfaltando il sistema di marcia a piedi di un intero quartiere. Abbiamo completato una piazza, Largo Abbazia, riqualificata, piazza di Vagno e Vicoli, che è il cantiere aperto. Stiamo realizzando una condotta di gas per alimentare la zona industriale. Abbiamo il Pug che ci è stato presentato, il regolamento edilizio che deve essere approvato, il piano di rigenerazione urbana del centro storico che è stato licenziato, il primo in Puglia dalla regione che deve essere approvato, il piano urbano del traffico, il regolamento di polizia locale. Insomma c'è da fare tante cose che servono alla città. L'appello finale di Mazzilli è rivolto alle forze politiche che prenderanno parte al Consiglio Comunale di oggi pomeriggio. L'invito è ad una riflessione che vada oltre gli steccati e le diversità di vedute e tenga conto del solo interesse dei cittadini di Corato. Vediamo un po' di riflettere, vediamo un po' di capirlo, dico anche alle forze politiche e soprattutto, e devo dire, ringrazio anche quei consiglieri che non hanno firmato la mozione di sfiducia. Evidentemente vogliono pensare, ma lo dico anche alle forze di opposizione che io rispetto nel loro operato, ragioniamo. Cioè se questo è il momento, soprattutto se questo è il modo, per come si è innescato e che chiaramente non tolgo prerogativa al Consiglio Comunale al cui dovrò riferire e dovrò portare le mie argomentazioni per evitare che si consolidi la sfiducia.